Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, coda per traffico in uscita a Firenze Sud e tra Firenze in Pruneta e Firenze Sud, tutto in direzione Roma. Ci spostiamo sulla Firenze Mare per traffico intenso verso Firenze, coda a tratti tra Pistoia BV 11 e 1 e coda di un chilometro tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In A15 un chilometro di coda per lavori tra Ulla e l'allacciamento A12 per chi viaggia verso Livorno. Qualche problema in Fipili troviamo 4 chilometri di coda per traffico tra Cascina e Pisa Nord Est verso Pisa. Per rispostamenti matutini inoltre, coda a tratti tra Ginestra e Firenze Scandici verso Firenze, coda in uscita a Pisa Nord Est provenendo da SGC Firenze Livorno e in uscita a Cascina provenendo da Pisa. In chiusura segnaliamo disagi alla mobilità per l'incendio che è scoppiato nella tarda serata di ieri minacciando la zona del Monte Serra in provincia di Pisa. Coinvolto in particolare il territorio comunale di Calci. Muoversi in Toscana Infi è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!